Il gruppo di protezione civile di Taranto è impegnato dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel sostenere istituzioni e cittadini. Soltanto nella giornata di venerdì 6 novembre i volontari hanno consegnato 48.600 mascherine, smart tv, 50 pollici e istituti scolastici del territorio per garantire la didattica a distanza. Ma non solo, anche igienizzanti e interventi rivolti al singolo cittadino come bombole di ossigeno o spesa ordinaria per assicurare i servizi essenziali in un momento critico. Noi praticamente stiamo continuando ancora, non ci siamo mai fermati con il nostro gruppo nella distribuzione di medicinali, tablet o i viveri che servono alla popolazione. Oggi stiamo facendo questo e siamo stati chiamati per distribuire in tutta la provincia di Taranto. Anche oggi, 6 novembre 2020, aggiungiamo un tassello di solidarietà da parte nostra del gruppo di protezione civile di Taranto che su richiesta scolastica, ancora una volta ecco, stiamo distribuendo delle mascherine a istituti scolastici della provincia. Ovviamente questa necessità che emerge da queste consegne ci rende sempre più orgogliosi di quello che per questa città stiamo facendo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS